Vi do ancora un'ultima indicazione, ovviamente le due macro specie di tartufi sono il bianco e il nero. Uno prevalentemente più da cottura, quindi si utilizza per fare salse, per fare fondi, per fare cotture. Il tartufo bianco invece è quello più pregiato, ovviamente quello più difficile, quello assolutamente selvatico, mentre invece sul tartufo nero ci sono perimentazioni e coltivazioni di piante micorizzate che danno una buona produzione di tartufo nero, di conseguenza va da sé che è meno profumato ed essendo meno profumato e meno pregiato è anche un prodotto di costo decisamente meno importante rispetto al tartufo bianco. Quindi ricordatevi bene, tartufo nero per il 90% delle volte cotto, tartufo bianco crudo.